eccoci amici questo è il fantastico erotica hot pepper in capsicum baccatum veramente eccezionale e poco piccante raccolto veramente copioso ma questo si è staccato famoso per la sua forma fallica capsicum annum lo si intuisce anche da queste sue dimensioni non viene altissimo come quell'anti capsicum annum però decisamente largo guardate che bestione guardate quanti frutti per adesso ancora cerbi a parte questi che faccio vedere e quindi è peperoncino erotico sapore agrumato guardate che bellezza è famosa per questa sua forma fallica come vedete tanti cazzetti appiccicati per l'aria veramente un peperoncino favoloso molto più bellino del penis pepper o del peter peppere come come viene chiamato questo è l'erotico hot pepper di semi strani di carlo martini arrivederci